Porre in essere una collaborazione attiva che renda operativo il protocollo d'intesa firmato nel 1998 e che consente di operare da subito in alcuni settori prioritari come cultura, turismo, industria e commercio. Sono queste alcune delle ipotesi di lavoro scaturite dall'incontro tra il presidente della provincia di Napoli Luigi Cesaro, l'assessore Francesco Serao e la delegazione cinese della provincia del Fujian, guidata a Vaxuan Rokshan, membro esecutivo del Partito Comunista Cinese e svoltasi oggi a Palazzo Matteotti. Si lavorerà per aprire un desk presso l'amministrazione provinciale di Napoli, prevedere uno scambio di stagisti tra le due amministrazioni, allestire nella provincia gemellata un'esposizione dei dipinti del 700 e dell'800 napoletano di proprietà dell'ente di piazza Matteotti e di alcune delle tante ricchezze del territorio, istituire confronti bilaterali tra i turoperetos e le aziende che si occupano di promozione e scambi culturali, realizzare una Little Naples in miniatura per incentivare gli scambi turistici, rilanciare gli scambi culturali che paragonati a quelli commerciali hanno una maggiore prospettiva a lungo termine.